nella legge di ermete in alto come in basso possiamo vedere un'analogia fra la discesa di cristo sulla terra e la somministrazione della panacea spirituale ogni cellula del corpo umano è dotata di vita propria l'ego regna su tutte le cellule e le dirige in modo tale che si agiscano in armonia nel corso di alcune malattie prolungate l'infermo è prostrato e così concentrato sulla sofferenza del suo corpo denso che non ha più la capacità di vivificare le cellule viene a crearsi una certa inerzia mentale per cui diventa impossibile liberarsi della malattia senza l'intervento di un impulso speciale atto a dissipare la nebbia mentale e a rigenerare le cellule questo impulso salutare può essere fornito dalla panacea spirituale come la morte violenta di cristo sul golgota ha cominciato a distruggere la cappa di terrore risultante dal verdetto inesorabile pronunciato dopo la caduta k che ricopriva la terra di un manto funereo e come il soffio della vita cristica ha aperto a milioni di esseri umani la via della pace e della buona volontà così la panacea spirituale irrompe nel corpo del malato e conferisce ad ogni cellula un ritmo che risveglia l'ego imprigionato in uno stato letargico ridonando la vita e la salute al corpo l'autore di questo scritto racconta un'avventura occorsali che farà comprendere in cosa consiste tale panacea nel corso di una notte memorabile nel tempio eterico dei rosa croce mi fu fatta vedere una certa sostanza nella quale lo spirito universale poteva fondersi tanto in fretta quanto l'ammoniaca si mischia all'acqua in grandi quantità al centro della volta del tempio erano sospese tre sfere una sopra l'altra la più grande posta in mezzo alle altri due conteneva dei pacchetti riempiti di questa sostanza quando i fratelli si furono collocati in un determinato ordine cominciarono a farsi sentire gli accordi di una musica armoniosa improvvisamente le tre sfere si misero a brillare intensamente emettendo i colori primari azzurro giallo e rosso constatai che durante l'incanto musicale il recipiente che racchiudeva i pacchetti di sostanza spirituale risplendeva in modo abbagliante a causa di un'essenza spirituale che non vi era contenuta precedentemente i fratelli utilizzarono poi alcuni di questi pacchetti su un ammalato con un successo immediato davanti ad esso le parti cristallizzate che avviluppavano i centri spirituali dei malati si dissiparono come per magia e gli ammalati ne ebbero la prova svegliandosi erano guariti si trovavano in un perfetto equilibrio fisico e mentale